cari soci e abitanti del nostro bel territorio buone feste mi faccio portavoce di tutti i componenti del consiglio amministrazione del collegio sindacale della cassa rurale valsugana tesino per portarvi questo nostro augurio che viene direttamente dal cuore che stiate bene nei nostri vali e che sentiate la vicinanza e l'impegno che la cassa mette nel partecipare la creazione di questo benessere con interesse e attenzione è il nostro obiettivo ci piacerebbe che anche lo sguardo da fuori riuscisse a cogliere tutto il lavoro e la passione come una grande squadra il consiglio amministrazione il collegio la direzione e tutti gli ottimi collaboratori della struttura mettono ogni giorno nella realizzazione di questo obiettivo la cassa rurale valsugana tesino c'è la sua presenza si vede con gli occhi e si esperimenta nel quotidiano in piccole e grandi esperienze oltre che economiche umane e quindi di vicinanza appoggio e crescita culturale continueremo ad impegnarci per dimostrare sempre con i fatti il nostro esserci in tutte le attività che promuoveremo negli interventi che porteremo ancora avanti in supporto alle associazioni e alla comunità con lo sguardo rivolto alla costruzione comune di un futuro migliore vi auguro di trascorrere nel calore nel conforto degli affetti e dell'amicizia un buonissimo natale arricchito dalla speranza di un nuovo anno portatore di pace e di buon vivere auguri di cuore a voi e alle vostre famiglie